Cosa stai facendo? Cosa ti è venuto in mente di fare oggi? Tanto tempo fa, in un villaggio dell'Agroelandia, si formò un piccolo esercito fuori dal comune. A differenza di tanti altri eserciti, questo piccolo esercito non puntava sulla quantità, ma sulla qualità. Infatti, solo alcuni uomini scelti, tramite delle prove di coraggio, come ad esempio le Botaflip Challenge, avevano l'onore di entrare a far parte di questo piccolo esercito. La giornata le passavano ad allenarsi, la mattina allenavano il corpo con degli esercizi che nessun altro avrebbe potuto sopportare, mentre la sera si allenavano con tutte le armi che avevano a loro disposizione. Bravi, bravi, sì, sì, molto forti. Molte erano le persone scettiche, per quanto ben allenati, secondo molti un esercito di 247 persone non avrebbe mai e poi mai potuto sconfiggere un esercito di migliaia di uomini. Proprio per questo motivo, quando una grossa minaccia si avvicinò, loro si offrirono volontari di combattere questa minaccia, ovvero 10.000 pinguini. Cosa stai dicendo? Cos'è questa cosa? La storia dell'episodio che stiamo per registrare. Hanno già chiuso tutti qua e nessuno lo vuole vedere. Perché mai? Era una storia così bella. Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Stef, che stai già chiamando Ultimate Epic Battle Simulator. Ovvero, il simulatore di battaglie più figo di sempre. Perché sì, ne hanno fatti tanti, ma questo è fantastico, è davvero bellissimo. E oltretutto torneranno le storie di Stef. Cioè, io scommetto che i consolini non vedevano l'ora. Cioè, più hype della nuova stagione di Game of Thrones. Ne sono sicurissima. Grazie, grazie per questa presentazione. Prendete Total Battle Accurate Simulator e buttatelo nel cestino. Perché qua si fa su serio, ragazzi. Si possono fare molte più cose. Il gioco lagga molto di meno. Ed è stra divertente. Per questo primo episodio abbiamo una storia davvero seria ed importante. Fereniki non ha capito mentre raccontavo la storia, la citazione al film 300. Quindi adesso ve lo chiarisco. E se vi credete perché... Però hai deciso di metterne 247. Perché mi dà fastidio che non mettono i numeri tondi. Io voglio i numeri non tondi. Io voglio i numeri solo tondi. Quindi già così non siamo d'accordo. Sì, ma è banale. Comunque c'è da dire che... 300. Sì, io 300 non l'ho visto. Pia. Altra domanda nel mentre che si inizia. Ok. Perché sono contro i pinguini? Cosa ti hanno fatto di male dei pochi? Perché sono in Groenlandia. E quindi combattono i pinguini. E quindi combattono i pinguini. Che hanno conquistato la Groenlandia. Che hanno conquistato la Groenlandia. E stanno cercando di invadere il resto del mondo. Quindi questo è il resto del mondo. Non vorrei vivere in un mondo i vaso dei pinguini. No, adesso te li faccio vedere e cambia l'idea. Sei pronta? No, spero che vincano. Sì, vai. Dove sono? Quei puntini razzani. Oh mio Dio, cosa sono? Beh, te l'ho detto che erano 10.000. Il gioco non scherza sui numeri. Se dici 10.000, sono 10.000 per davvero. Cioè che su Taps metti 50 truppe e ti è crashato il gioco. Esatto, quando metti 10.000 e ti regge tutto normalissimo. Sono già partiti correndo cattivi. Cioè io andrei così ad abbracciarli. Mettetevi tutti qui sopra, abbracciatevi e viviamo felicissimi insieme per sempre senza Steph. Perché ovviamente no, che bello. Ma ci sono anche altri animali. Le galline e le tartarughe per ora. Poi abbiamo orchi, mi sa, elfi, catapulte. Vabbè, ma quelle sono tutte cose fantasy. Ma tipo non abbiamo gattini o cagnolini, no? No, no, no. Soltanto pinguini, galline e tartarughe. Bisogna dire agli sviluppatori di aggiungerli per fare niente. Certo. E poi mi sa che li posso rendere anche giganteschi, se voglio. Sì, li facciamo giganti. E posso anche vivere la vita di un pinguino, vedi? Posso essere proprio un pinguino. Andiamo in battaglia come pinguino! Con le ali spianate, corriamo! Ma sono lentissimi comunque, cioè avremmi... Poverini. Non voglio che combattano però adesso con i pinguini. Non ti è ben chiaro cosa succede ora? Diciamo che... Vincono i pinguini. Il gioco non è molto allegro, come pensi. Ok. Si macellano, macellano a vicenda. Ma vincono i pinguini, tanto io so, tranquilla. Non lo so, non lo so. Qualche piccolo sacrificio per la vittoria del popolo dei pinguini, va benissimo. Perché te l'ho detto, i 247 sono ben pronti. Ma questi sono fermi, non vanno. Perché sono in formazione, capito? Loro non li fa paura nulla, nemmeno 10.000 pinguini. Ah, ecco perché... Non so chi farebbe la paura, però... No, io sarei troppo... Loro non li temono e guardali. Guarda che formazione. Pugni li stanno prendendo. Guardali. Ma poverini, li stendono subito. Perché questa è la formazione finale. Chi non ha paura non può perdere una guerra. E adesso ci sarà un po' di maciullo. Però dai ragazzi, che ce volete fare? Sono finti tanto. Sono pinguini finti. Nessun pinguino vero è stato maltrattato per questo video. Ti avrei già ucciso, però sono finti in questo caso. Sono... Sono travestiti da pinguini, ma in realtà sono orchi. Sono i soldati della Groenlandia, che sono travestiti da pinguini. Ok. Sì, 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 ho capito, ho capito. Così sono più felice anch'io. Al momento, perché abbiamo anche in alta sinistra il numero perfetto, se tu vedi, ti dice le unità uccise da parte degli spartani. Quanti spartani rimangono e i pinguini rimanenti. Quindi puoi sapere tutto. Quindi al momento i 247 sono ancora tutti vivi. Io ti devo dire una cosa. Infatti, la formazione non si è schiodata da lì. Certo. Cioè, c'è solo un tappetto di pinguini stessi. Cioè, così non ha neanche senso la battaglia. 247 contro 10.000. Speravo che fossero un attimino più azzilli questi 10.000. Vedi che hanno gli scudi e sono superpotenti. I pinguini hanno solo le alette. Ma se fossero intelligenti andrebbero a cerchio. Ma i pinguini non sono intelligenti. Uno l'hanno ucciso. Ne hanno ucciso uno. Poi facciamo tipo pinguini contro tartarughe o cose così. No, mi rifiuto. Consolini, votate se volete vedere animale versus animale. Consolini, non votate una cosa del genere. Posso toglierne uno dalle fila e andare ad attaccare io i pinguini. Ciao, pinguini. Come si attacca? No, 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 no. Sto... Ti stanno facendo... Ah, vedi? Quando riescono a prendervi da soliti... Quando c'è uno che non è allenato come Steph, i pinguini diventano forti. Ferre, non ci vede più nulla. Ferre, c'è buio. Buonanotte nel frattempo. Esatto. Allora, l'esito... In questo momento sono rimasti soltanto mille pinguini. Infatti li vedete che ormai sono pochi. E l'esito per adesso è nove uccisi dai pinguini. 8.800 uccisi dai nostri grelandesi. I 247 fighissimi. Sono tristissima per i pinguini. Ma no. Solo nove di loro sono morti e adesso dai 247 saranno i 238. Un nuovo film. Sarà il secondo. No, basta, ti prego. Andiamo a fare un'altra battaglia. Se mettono tanti like ci sarà il continuo della storia. Però non sarà contro i pinguini. Però continueranno i 238. Quindi ricordatevi questo numero. 238. Gli eroi al mondo. Tatuatevelo, scritto qua. No, non c'è bisogno di tatuarlo, per carità. Allora. Quindi mi hai detto che vorresti... Abbiamo... Perché vedi, abbiamo Antica Grecia, Fentesi, Animali, Diavoli, WW2 che sono soldati americani. Poi i supereroi. Infatti vedi c'è Chuck Norris. Ma della seconda guerra mondiale, inteso così? Sì, gli arcedi qua. Eh sì, sulla montagna di difendere. Mi sembra giusto. Poi mettiamo su... È un po' difficile. Uh, gli zombie, che bello! Mettiamo un po' di zombie? Sì, dai. Sì, così. Li mettiamo a difendere, capito? Per esagerare. Sì, però difendere, non attaccare. Eh, lo so, però non c'entrano nulla con gli arcieri e con gli orchi. Certo che c'entrano, è un'alleanza. Però dai, gli orchi fanno schifo, quindi gli zombie fanno schifo. Hanno questa cosa in comune. Quindi va benissimo. Guarda che belli che sono. Che brutti! E poi, qua abbiamo tutti i nostri arcieri schierati per tutta la montagna. E poi li ha messi un po' in basso lì davanti, penso. Eh, vabbè, li adatta al gioco in base alla forma. Ovviamente alla mappa. Poi, i giant ogre. No, vabbè, no, ma questi hanno vinto a mani basse. Vabbè, ragazzi, non avevo capito che fossero così fighi. Che belli! Sembrano usciti da World of Warcraft. Sono fantastici. No, che belli. Mi rimangio quando ho detto che sono brutti. Tifo per loro. Li adoro. Sono fantastici. Sono proprio quelli di coso? Del Signore degli Anelli. Del Signore degli Anelli. Loro sono proprio loro. Le stesse spade. Bellissimi. No, sono loro. Alla carica! Io ti fò per loro. Cioè, non li hai messi nello stesso team? Mi sono dimenticata. E quindi ci sono anche gli arcieri che sparano gli zombie? Non credo, perché forse loro... Sì, vedi? Ragazzi, non era così la battaglia. Gli orchi sono i nemici, gli orchi. Allora. A te sbagliate. Steph, vi hai dato indicazioni sbagliate. Scusate, è colpa del generale Steph. Non aveva capito bene come funzionava. Solo rispieghiamo bene. Scusate. Vabbè, almeno la prima l'ho azzecata. Vi dirà così. Almeno una. Poi lo sai che devo sempre filare io. Questa volta funziona. Guarda, li stanno avanzando. Con che cattiveria. No, vabbè, adesso gli spaccano la faccia. Vorrei essere un giant ogre nella vita. Guarda anche loro. Guarda che belli correndo. Sono bellissimi. Ma questi li calpezzano, gli zombie. Oh, però guarda le frecce. Guarda le frecce. Che cattiveria. Guarda, qualcuno è caduto. Guarda lì. 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 No, che loro sbagliavano e sì. Zombie. Colpivano le truppe alleato, si colpivano i piedi. Te li ricordi? Allora, gli zombie sono un po' troppo zombie. Sì, sono proprio zombie nel vero senso della parola. Non è la mannequin challenge. Dovrete muovervi. Dovrete muovervi un po'. No, non gli va. Vabbè, praticamente stanno facendo da scudo. Per gli arcieri. Per danno tempo agli arcieri. Il discorso è che gli arcieri non hanno ammazzato soltanto 24 al momento. E più ci sono tutti quelli dietro. Esatto. E sono, mi sa, 1.500 questi giant. No, sono davvero tanti. Non è molto equilibrata come battaglia. Guarda. Oh mio Dio. Guarda che figo. No, che bello che puoi entrare nel vivo della battaglia. È già il più bello del mondo. Che bello. Suoco. Accidenti. Fuoco. Allora, dobbiamo sparare quelli al ponte. Arcieri, ascoltatemi. Mirate tutti al ponte. Mirate tutti al ponte. Dobbiamo bloccare la loro avanzata. Allora, devo fare l'eroe. Ci penso io a bloccarli. Ci penso io. Te lo dici tu. Mamma mia quanto fanno paura. Mamma. No, stai calmo. Arrabbiatissimi. Amico. No, 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 no. Mi ha schiacciato. Non mi ha neanche dato un colpo. Cioè, non sei neanche sprecato a darti un colpo. Ma stiamo scherzando. Eh, vabbè. È andata così. No, dovremmo bilanciarlo un po' meglio. A sto punto, un attimino, eh. Fammi schiacciare tutti. Da che ci siamo. Esatto. Questa è vera guerra. Questa è vera guerra. Davvero, davvero bellissimo. E ovviamente le truppe ne devono aggiungere tantissime. Cioè, io ad esempio... Sì, il gioco deve ancora uscire oltretutto il gioco. Sì, la prima, prima, prima beta. Quindi dovrebbero aggiungere un po' di unità anche abbastanza in fretta. Poi chiederemo nel caso via email quanto ci metteranno. Ma comunque abbiamo già abbastanza truppe per fare, non so, non so quante guerre e quante storie. Quindi siamo super tranquilli. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Direi che ci possiamo anche fermare. Questi dall'alto sembrano delle blatte. Guarda lì. Sì, ho notato. Vero? Non è proprio schifo dall'alto. Invece poi ti avvicini e sono degli orchi fighissimi. Perché ci sono gli altri troppo grandi che li fanno sfigurare. Quando poi sono possenti pure loro, dai. No, sì, sì. Di sicuro non ci vorrei avere nulla a che fare. Voglio un esercito di orchi. No, non puoi averlo. Comunque ci fermiamo così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Nel caso lasciate tanti like. Fateci sapere nei commenti se volete altri episodi. Se li volete con delle storie o semplicemente simulazioni di battaglie. Che simulazioni di battaglie vorreste vedere? Tipo cosa ne so gli uomini della seconda guerra mondiale contro gli orchi. Cioè potete inventare davvero non so quante cose. E poi fateci sapere anche quante volte lo vorreste vedere alla settimana. La lista della spesa. Che telefilm guardare stanotte. Che cosa mangiare a cena. Bello, bello. Bei consigli, sì, sì. E ci fermiamo così. Bene che se riesci così, sì, ci lasciateci un like. E se la prima volta che ho detto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.